In collaborazione con Studio Spataro, amministrazioni immobiliari. Parliamo ora di lavoro e più precisamente del patto o periodo di prova. Che cos'è e come viene regolamentato? Sentiamo l'Avvocato Pollastro. Buona giornata a tutti. Io non riesco a capire per quale motivo continuano a uscire, a venire persone che raccontano e riferiscono di comportamenti che sono diventati ormai consuetudine e che sono assolutamente non corrispondenti alla legge. Ci sono quelle che io definisco le leggende metropolitane e non c'è santo che tenga, non si riesce a scalfire queste leggende. Stasera voglio toccarne una in modo particolare. Il patto di prova. Quante persone, soprattutto giovani, dicono io ho lavorato per un certo periodo in prova, poi mi assumono, forse mi assumono. La prova, il patto di prova, in questo senso vuol dire una persona che viene, comincia a lavorare per un certo numero di giorni, dopo lì che viene assunta. non esiste, è fuori dalle regole, non corrisponde ad assolutamente ad alcuna disposizione, né legislativa né contrattuale. Ed è fonte di rischi gravi per i lavoratori e per i datori di lavoro. L'assunzione deve essere formalizzata in coincidenza con l'inizio del rapporto di lavoro e in quella sede, eventualmente, le parti, non è obbligatorio, ma quasi sempre le parti, inseriscono anche un patto di prova in cui entrambi, datori di lavoro e lavoratore, valuteranno per un certo periodo se il rapporto di lavoro è conveniente. Quindi, se uno comincia prima, senza regolarizzazione, vuol dire che è per quel periodo un lavoratore irregolare, in nero, un rapporto di lavoro privo di qualsiasi copertura assicurativa e previdenziale, con tutti i rischi che ne conseguono. Come deve essere fatto il patto di prova? Il patto di foto deve essere scritto e firmato da entrambe le parti, in occasione dell'inizio del rapporto di lavoro o prima dell'inizio del rapporto di lavoro, ma non dopo il rapporto di lavoro. Uno non può cominciare un rapporto di lavoro e dopo fa un patto di prova. La prova è all'inizio, la durata del rapporto di lavoro. La legge lo prevede un massimo di sei mesi, ma di solito sono i contratti collettivi di lavoro che chiariscono quanto dura in funzione del lavoro. L'altra cosa da ricordare assolutamente è che nel patto di prova deve essere indicato su che cosa ci sarà la prova. Se io vengo assunto per fare il cameriere, ci sarà il patto di prova per fare il cameriere. Se io vengo assunto per fare l'elettricista, il patto di prova per fare l'elettricista non può essere semplicemente un patto di prova per fare l'operaio. L'operaio è generico o fa l'impiegato. Cosa vuol dire impiegato? Non è che occorra, la legge non prevede la puntigliosità, che cosa uno fa in maniera precisissima. Però ad esempio fare, io sono magazziniere, sono impiegato commerciale, sono impiegato amministrativo. Queste sono qualifiche. Voglio toccare l'ultimo aspetto che è fondamentale. Attenzione. Prima del termine, del periodo previsto nel patto di prova, ciascuna delle parti, lo sappiamo tutti, può risolvere, chiudere il rapporto di lavoro senza bisogno di dare né motivazioni né preavviso. Vengono molti lavoratori e dicono, ah ma io ero bravo, io sono stato bravo, mi ha risolto il rapporto di lavoro, ma io sono bravo, voglio far verificare che io sono bravo. Attenzione. Il patto di prova non è un esame scolastico. Non è quindi la valutazione se uno è bravo o non è bravo a fare quel lavoro, ma è una valutazione che entrambe le parti fanno sulla convenienza del rapporto. Poi potrebbe essere che l'attore di lavoro abbia ritenuto che quel rapporto in fondo non gli serva o che gli è costa troppo, non sta dentro la sua organizzazione e l'impresa, non è una valutazione sulla bravura del dipendente. A meno che uno riesca a dimostrare che c'è stato un atteggiamento discriminatorio, volutamente discriminatorio, ma la patto di prova, la valutazione della prova, è una valutazione, si dice, discrezionale, cioè che dipende dalle scelte reciproche del datore di lavoro, del lavoratore, che insieme valutano se il rapporto di lavoro convenga o non convenga all'uno o all'altro. E nell'ipotesi in cui a uno non convenga può decidere di non proseguirlo senza bisogno di dare né motivazione né preavviso. Grazie, buona serata. Con l'Avvocato Bortolotti parleremo della revoca dell'amministratore di condominio. Quali sono i tempi e i modi dettati dal Codice Civile? Parliamo di una figura professionale di assoluta importanza nell'ambito della vita familiare, nell'ambito della vita normale dei cittadini, della maggior parte delle città e dei centri abitati del nostro paese, che è quella dell'amministratore di condominio. Tutti quanti noi, nel bene e nel male, ci troviamo, abitando in stabili, appunto in palazzi condominali, ci troviamo a confrontarci con questa figura professionale che ha a che fare e ha incidenza diretta con alcune delle questioni più rilevanti anche nell'ambito di un bilancio familiare. È frequentissimo sentire, nell'ambito delle assemblee condominali, comunque negli umori dei condomini, valutazioni differenti, più disparate, con riferimento all'operato dell'amministratore di condominio. Facciamo con la consueta praticità e sinteticità un po' di chiarezza circa quello che si può fare nel momento in cui ci rendiamo conto che l'amministratore di condominio non svolge la propria attività professionale in modo adeguato e vogliamo in qualche modo, tra virgolette, liberarcene. Allora, ricordiamo brevemente che l'amministratore di condominio ha ovviamente degli obblighi, deve occuparsi di attività ben specifiche e la sua responsabilità può essere tanto per attività negligente, quindi per aver posto in essere in modo inadeguato, poco professionale e non soddisfacente i propri compiti, tanto per l'omissione totale di questi compiti. Si tratta di un incarico, quello appunto dell'amministratore, di carattere contrattuale, ricordiamoci infatti che i condomini danno all'amministratore un mandato professionale ad occuparsi degli affari relativi ai beni comuni e alle parti comuni del condominio. Quindi questo cosa vuol dire? Primo aspetto molto importante. In caso di esercizio negligente o omissione delle attività che gli competono, l'amministratore di condominio può essere chiamato sempre al risarcimento del danno, nel caso appunto i condomini ricavino dei pregiudizi dal suo cattivo operato. Questo è un aspetto che forse non è sempre ben conosciuto. Quindi c'è sempre la possibilità di chiedere il danno per ciò che l'amministratore eventualmente ha combinato di male per quanto riguarda gli interessi del nostro condominio. Ricordiamo che l'amministratore per legge rimane in carica un anno e successivamente alla riforma del 2012 con il rinnovo per l'anno successivo. Quindi praticamente per due anni se l'assemblea non lo revoca con le modalità normali e con le maggioranze del caso. Vediamo brevemente quali sono le motivazioni per cui noi possiamo chiedere o possiamo comunque procedere alla revoca, alla cacciata del nostro amministratore che non ci soddisfa. Chiediamo subito che non ci possono certo essere delle motivazioni di simpatia, antipatia oppure di particolare solerzia alla base di questo desiderio di cambiare amministratore. O meglio, io non posso chiedere che venga allontanato un personaggio che non mi sta simpatico o che magari non risponde tempestivamente alle mie mail. Ci sono delle casistiche importanti. L'amministratore può essere revocato senza giusta causa, ossia in ogni momento l'assemblea con le maggioranze dovute, quindi 500 più 1 e con la maggioranza del valore dell'immobile può decidere di non confermarlo e di revocarlo anche prima della scadenza dell'anno. E poi ci sono le casistiche di revoca per giusta causa. Queste sono molto precise e si può percorrere questa strada per gravi irregolabilità contabili e circa il cattivo utilizzo del conto corrente condominiale, oppure per gravi inadempienze o irregolarità fiscali compiute dall'amministratore. Queste sono le due grandi cause, due grandi materie di negligenza che l'amministratore può pagare a caro prezzo, ossia con la revoca con giusta causa. Perché dico a caro prezzo? Perché la revoca con giusta causa può avvenire o in maniera tutto sommato indolore all'interno dell'assemblea con le modalità che dicevo prima e le votazioni di legge. Oppure nel caso in cui non si riesca con l'assemblea, qualunque condomino, anche uno solo, per questo tipo di negligenze e inadempienze che dicevo prima, ossia quelle che contemplano la giusta causa, può chiamare in giudizio l'amministratore e non chiederne solo la revoca, ma anche il risarcimento del danno. In casi molto gravi, come ad esempio l'omessa convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina o la revoca dello stesso amministratore, la mancata esecuzione delle delibere, la mancata redazione dei bilanci o addirittura la scorretta tenuta della contabilità, il risarcimento del danno e l'eventuale condanna dell'amministratore può essere anche molto probabile. Allora che cosa fare? Il consiglio è che spesso e volentieri ci sono dei consiglieri all'interno dei condomini, quando si avverte una situazione di disagio, comunque si hanno dei fondati motivi di ritenere che il nostro amministratore non ha un operato professionale o all'altezza, è opportuno svolgere le opportune verifiche con sicuramente un consulente legale o anche un consulente contabile per valutare se sia possibile chiedere la revoca dell'amministratore menesimo senza giusta causa o per giusta causa, fin anche ad arrivare alla procedura in tribunale. Siamo giunti al termine, se avete domande per i nostri legali scriveteci, avvocati rispondono chioccioleicomizio.it, noi ci vediamo alla prossima puntata. Studio Spataro, amministrazioni immobiliari